Dieci anni di reclusione per gli spari nell'area di servizio GB Oil quando rimasero feriti i licatesi Michele Cavaleri e Salvatore Cavaleri, oltre ad un carabiniere ad un operatore del 118. E questa è la richiesta che ieri il PM Mario Calabrese ha formulato davanti al GUP Roberto Riggio per la posizione di Paolo Quinto Di Giacomo. La sua azione venne ripresa da sistemi di videosorveglianza dell'attività commerciale a ridosso di Macchitella. Sparò perché i due licatesi avevano offeso la sorella e altri amici presenti generando una rissa che poco prima era scoppiata all'interno del locale. I colpi non furono mortali e i licatesi vennero feriti. Senza altre conseguenze Di Giacomo sparò con una pistola che aveva la matricola Brasa. Per il pubblico ministero l'imputato voleva uccidere. Non ci sono dubbi sulla ricostruzione dell'intera dinamica dei fatti accusato di tentato omicidio. Di Giacomo arrivò nell'area di servizio dopo la rissa. Aveva già la pistola e si avvicinò ai licatesi mentre erano già presenti i carabinieri e gli operatori del 118. Si scatenò il panico e lo stesso carabiniere rimasto ferito riuscì a bloccare la giovane disarmandolo. Il militare si è costituito parte civile nel procedimento assistito dal legale Francesconia. La difesa di Di Giacomo che ha optato per il giudizio abbreviato ha invece analizzato la dinamica escludendo che ci fosse l'intenzione di uccidere. Il legale Davide Limoncello ha chiesto la riqualificazione del capo di imputazione. Condanne sono state indicate anche per Michele Cavaleri. A due anni di detenzione per Salvatore Incorvai ad un anno e otto mesi rispondono di lesioni e resistenze. Sono difesi dall'avvocato Giuseppe Vinci Guerra. Tutti gli altri coinvolti accusati di rissa hanno ottenuto l'ammissione alla messa alla prova. Si tratta di Giuseppe Nisellino, Angelo Ovoddo, Alessandro Di Michele, Paolo Biundo, Stefania, Micaela, Fanita, Salvatore Cavaleri e Deliseo Di Giacomo. La decisione nei confronti di Di Giacomo e dei Licatesi di Cavaleri e Incorvaia dovrebbe arrivare a fine mese quando il Gup Riggio ha fissato la prossima udienza.